Siamo con Roberto Rizzardi presso l'Istituto Cranio Sacrale La Marea di Treviso. Roberto è un formatore per quanto riguarda questa disciplina e anche il direttore della scuola. Ecco, chi è l'operatore cranio sacrale? Parlaci di questa figura. L'operatore cranio sacrale è un operatore che ha intrapreso e concluso naturalmente con profitto un percorso triennale di formazione. Un percorso triennale che prevede un certo numero di ore e un certo numero di argomenti, di materie che deve studiare. E naturalmente un operatore è anche uno che attraverso questo percorso formativo ha potuto portare a termine le prove in itinere previste dalla formazione stessa. Ecco, chi può accedere a questo tipo di formazione? Chiunque? Diciamo, chiunque non è proprio la cosa più corretta. Noi chiediamo dei requisiti per accedere ai nostri corsi. Chiediamo che ci sia una scolarità media superiore e un minimo di conoscenza dell'anatomia e della fisiologia del corpo umano. Anche a volte intrapresa magari in altri percorsi di qualche altra disciplina bionaturale come lo shiatsu, per esempio abbiamo molte persone che provengono dallo shiatsu o dalla riflessologia plantare piuttosto che dalla kinesiologia. Quindi ci sono persone o figure che provengono sia dal mondo della medicina alternativa o delle pratiche alternative sia persone che provengono dal mondo sanitario? Certamente sì, abbiamo anche delle figure sanitarie che decidono di intraprendere questa formazione. Il percorso di formazione quanto dura e di quante ore di formazione è composto? Il percorso di formazione è triennale. Impegnativo? È decisamente impegnativo per un totale di 700 ore nell'arco di questi tre anni accademici. Si tratta di corsi teorici, si tratta di pratica, di stage? Beh, già queste 700 ore sono suddivise in 400 ore frontali e 300 di tirocinio. Quindi già questo divide la formazione in due parti. Chiaramente già anche all'interno delle ore frontali viene fatta molta pratica. Vengono fatti molti laboratori di pratica. L'operatore poi sostiene degli esami. Esiste un registro nazionale a cui ci si può rivolgere per sapere se ci si sta rivolgendo a una persona qualificata? Certamente sì. Esistono degli esami che noi, nella nostra realtà formativa, somministriamo all'interno di ogni anno accademico. Due volte, per la precisione, ogni anno accademico vengono somministrati dei test di valutazione e risposta multipla, attraverso il quale i sette decimi comportano l'idoneità, altrimenti la persona viene dirottata in percorsi di approfondimento o direttamente con l'insegnante o con la tutor o a casa per poi poter rifare quella prova. Quindi, in sostanza, chi può accedere a questo tipo di corsi? C'è uno standard minima dei requisiti? Attualmente non esistono delle normative specifiche che stabiliscano dei prerequisiti o dei requisiti particolari per accedere a questi corsi. Naturalmente, sia l'Associazione Italiana che la nostra scuola gradisce che ci sia una preparazione anche culturale di base con un diploma di scuola media superiore e, nel nostro caso, proprio come scuola, ci piace sapere che la persona ha delle conoscenze di base di anatomia e di fisiologia del corpo umano. E poi, le persone che vengono a descriversi provengono sia dal mondo della scuola o dal mondo del bionaturale, ma, se non ho capito male, anche dal mondo sanitario, in qualche modo. Certamente. La nostra scuola si è proprio posta anche questo obiettivo di coniugare e mettere insieme figure professionali sanitarie con figure bionaturali, perché la formazione che viene erogata è la stessa. Ma qual è la differenza, a questo punto, di un operatore che fa lo stesso percorso, ma ha una base diversa? L'operatore sanitario ha una base diversa. Come viene applicato, poi, quello che viene appreso durante la formazione? Naturalmente si aprono due scenari diversi. L'operatore sanitario, a seconda della sua formazione, possa essere lui un fisioterapista piuttosto che un infermiere, uno psicologo, psicoterapeuta, chiaramente calerà all'interno del suo ambito professionale questo strumento, questa risorsa, questa specializzazione in cranio sacrale. Naturalmente, a seconda del loro specifico codice deontologico, per esempio i fisioterapisti, so che devono far firmare un'autorizzazione di consenso informato per le persone alle quali loro applicano all'interno del svolgimento della loro professione, qualora applicassero questo lavoro qui cranio sacrale, dovrebbero informare la persona ed averne l'autorizzazione. Invece chi non opera come operatore sanitario, chi non lavora come operatore sanitario, come attua poi la sua attività? L'operatore bionaturale è più rilassato, perché sta fuori dalla logica della patologia. Non si prende cura della patologia, ma si prende cura della persona. E prendersi cura della persona, con un approccio come quello cranio sacrale, si riduce a una cosa molto semplice, che è riuscire a contattare qualcosa all'interno di quella persona di molto essenziale, di molto essenziale, e rafforzarlo. Quindi, quando una persona esce dalla formazione da questi tre anni di percorso, sostiene un esame e poi è già in grado di operare direttamente o ha bisogno di fare nello stage in qualche maniera affiancato da qualcuno che già lavora. È ovvio che gli obiettivi, l'aspettativa, la voglia anche da parte di chi si è messo a investire nella formazione, di avere dopo un triennio una competenza sufficiente, una rilassatezza sufficiente, una capacità di sapere quello che sta facendo fino in fondo, visto la complessità di questo lavoro. Ecco, questo è un obiettivo minimo che dopo la formazione si ha voglia di avere e di aver centrato, insomma. Ringraziamo Roberto Rizzardi dell'Istituto Cranio Sacrale di Treviso La Marea per averci regalato queste informazioni. Grazie a te. Grazie a te.